Dopo un paio di anni di proclami, attese e lungaggini burocratiche, il tempo in cui sarà possibile vedere camion e ruspe al lavoro sembra ormai diventato questione di settimane. L'attuale centro sportivo di Villa Fastigi, casa della Vispesero, è pronto ormai ad ospitare quei cantieri che lo renderanno cittadella dello sport, con la Vispesero e l'associazione temporanea di imprese Mati Group che fa capo allo stesso presidente biancorosso Mauro Bosco, principale attore della concessione in regime di project financing che vede il comune di Pesero compartecipare all'azione con 1.200.000 euro. Tre settimane fa è arrivata l'approvazione del consiglio comunale e negli ultimi giorni lo stesso comune ha affidato gli incarichi per definire il progetto operativo nominando l'architetto Pietro Cantani, responsabile unico del procedimento di adeguamento del centro sportivo. Insomma, si sta per partire con un progetto che per la Vispesero potrebbe essere un primo passo su un cammino davvero lungimirante, un cammino che il presidente Bosco aveva ipotizzato fin dai primi mesi del suo insediamento. Il progetto consisterà infatti in due nuovi campi di calcio a 11, uno di calcio a 5, campi di paddol, un'area ristoro, nuovi spogliatoi, una palestra, tribune e uffici per il personale della Vispesero. Il tutto in ottica sostenibile e efficientamento energetico con impianti fotovoltaici. Un complesso funzionale e all'avanguardia dove la Vispesero potrà continuare a crescere investendo su giovani e diventare un punto di riferimento sociale e sportivo per la città e non solo. Contestualmente l'avvio dei cantieri potrebbe rivoluzionare anche la viabilità dell'area di Villa Fastigi con i residenti preoccupati dalle possibilità di aumento di traffico. A tal proposito c'è allo studio da parte del Comune la possibilità di un nuovo percorso ciclopedonale ma probabilmente sarà un passaggio subordinato all'avvio dei cantieri che salvo intoppi caratterizzeranno l'estate di questa area.